E' possibile ricevere dei V-Buck gratuiti Inserite questo codice e premete invio e proviamo gioca Avviate la partita Dopodichè qui Completate questo pezzo di mappa e salite su questo parkour Dopodichè qui dovete arrivare lì sopra senza farci male Andate più avanti e premete bonus room Ragazzi eh si già avete visto qualcosa Coding Gamer 502 e premi accetta Cosa abbiamo qui ragazzi? V-Buck Goku I livelli Ragazzi andiamo a premere Vediamo un poco Vediamo cosa ci darà quando torniamo alla lobby Forza Mi sa che la mappa era falsa Nel frattempo c'è questa skin che si può ricevere Gattuto attraverso un torneo che uscirà a giorni Quindi seguimi per essere ragionato su questa skin E per ricevere adultamente